All'ippodromo del Cirigliano di Aversa la quarta corsa è il premio mediterraneo, al via soggetti di 4 anni, sono in 11. In prima fila Zorever CCSM, Zabedeo, Zlatanferm, Zodiaco Jet, Zeus Boccino e Zanira. In seconda Zempalferm, Zagorsan, Zara FKS, Zeria di Casei e 0-1 MMG. Zodiaco Jet, nettamente il più sollecito, poi Zabedeo con allargo Zeus Boccino in quarta ruota, Zanira. Parte bene di dentro Zorever CCSM. Zodiaco tiene la testa della corsa nei confronti di Zorever CCSM, allargo Zabedeo. Mentre Zeus Boccino è retrocesso in coda al gruppo. Il leader tiene ritmo incandescente e completa il quarto iniziale in 29-1 sul piede dell'1-12-8. Il quarto iniziale. Adesso Mattio Orlando riduce il ritmo. Insalchi al figlio di Ken Warkenton e completa i 600 in 44-6, ma con un'ultima frazione in 15-5. In schiena Zabedeo si è sistemato Zlatanferm. C'è la mossa in terza ruota di Zeria di Casei, che si trascina Zara FKS. Più allargo Zlatanferm. Un minuto di 800 di gara. Ha potuto rifiatare con un'altra frazione in 15-5 il leader. Chilometro completato in 1-15-8. Ai lati del battistrada c'è Zeria di Casei. In schiena c'è Zorever C.C.S.M. Si libera anche Zanira, ma è praticamente in ultima posizione. 1-30 e mezzo i tre quarti di miglio. Zodiaco allunga e poi riprende in mano. Allunga e riprende in mano. Non vuole far uscire Zorever C.C. dalla sua scia. Nella stessa posizione c'è anche Zagor San. Ingresso in retta. Adesso Zodiaco dà un po' la testa. E così Zorever si libera. Zorever C.C.S.M. Passa. E va a vincere mentre Vitagliano con 0-1 MMG. Trova varchi interni e raccoglie la seconda maneta. Sopravanzando Zagor San. Arriva a sorpresa. Ma Zorever C.C. con quel numero poteva essere il cavallo nascosto. L'ultima volta aveva sbagliato in gentleman e non faceva testo. Quest'oggi è saluto a bordo il leone Raff d'Alessandro. Chi l'ha guidato in punta di dita soprattutto sulla piegata finale. E in retta d'arrivo. Ha preso la meglio. Mentre il 0-1 MMG è arrivato fortissimo per linee interne. Lo vedete. A raccogliere la seconda moneta. Ai danni di Zagor San. Quindi arrivo probabile ed ufficioso. 1-11-8. La media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1-15-3. Per il portacolori del team d'Alessandro. Società d'Alessandro. Anche al training. E Raff d'Alessandro in salchi. Mussa. E Raff d'Alessandro.